Ben a tutti ragazzi, sono Sniper, siamo sempre qui il sabato con... Lau, bella ragazzi E con... Il nostro... Oh! Oddio! Ciao, bellissimo Inquisantissimo Il nostro gattino, bellissimo Non abbiamo dato ancora un nome Stray si chiama Ah Credo Il gioco si chiama Stray, quindi penso che siamo gli Stray Beh, in realtà è tipo Stray Cat, ste cazzate qui E quindi come lo chiamiamo? Gino Gino E il robottino? Peppe Gino e Peppe Gino e Peppe Ok, allora Riassuntino molto veloce La scorsa puntata abbiamo preso e ci ha montato il missilone qui Cioè l'olusciona qua per... dentro il robottino per distruggere i brutti E adesso bisogna andare da dock per andare e tornare in città In città dal figlio Ma più che altro come si usa la torcia? Però non puzzasti Oh, forse è questa Proviamo Ok Ok, però c'è una barra Dura abbastanza Voglio vedere cosa succedeva Porca Eh, volevo vedere cosa succedeva Ok Ok È inutilizzabile per tot secondi Ti dirò Si ricarica anche abbastanza velocemente Non male Non male Vorrei che tu rintrassi Sinistra Perciò sinistra Debbe essere No Questo ho chiesto qualcosa Dura abbastanza velocemente Dura abbastanza velocemente Dura abbastanza velocemente Ehm Che l'ho fatto prima Wow, funziona alla grande Però con sospettavo rischi del surriscaldamento Ok Lascialo affrontare un po' quando succede Spero che duri fino a quando avremo raggiunto il villaggio Ma sì Va bene, sì, voglio Non lo mica lo userò così troppo E dopo, oddio Per lui devi usarlo Grazie, per lui devo usarlo Se no mi muore Eh sì Va bene Dai, Doc Sì, Doc Però non andiamo così piano Perché se no ci si mette due anni Per arrivare Beh Ma sto passaggio non era chiuso Eh, l'ha aperto lui Ma dai Ma chissà perché Beh Allora Intanto questo coso servirà a qualcosa Sicuro Sicuro Quindi me lo sposto già Qui Secondo me va messo qui Sì Aspetta, no Guarda Secondo me si sposta qui E poi si va di qui dentro E si sposta all'altro Sì Per andare da qualche parte Manco glielo chiediamo Allora glielo chiediamo Sì Vediamo Doc Dove bisogna andare Deve esserci un modo per aprire quella porta Ok, niente Sì Però vedi C'è un cavettino Un cavettino Che vuoi lì dentro Eccolo Infatti Quindi Oh 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 drifto Oh Ho driftato Gatto drifto Inisca al drifto No, initial cat Initial cat Allora Tu vorresti dirmi che lui riesce a saltare là sopra Vabbè Superman M� am orrampico Non penso dove ma scendere Non pensi dove dove scendere No, mi ha fatto scendere da solo No, hai fatto scendere da solo Ok, vieni Volevo Ticchetta Che ti色asta Il nostro gatto è proprio bello La marina mia, devo riscaldarla Ma si ricarica molto velocemente Sì, non per quello c'è Che stesse le uova funziona No Non è solo sull'insurk vivi Sì C'è un tastino Oh Oh, no, è il doc Dai doc, veloce È il mio Porca Perché li attira a me e non prendono doc Si Poi Si ricarica veloce ma Sì, ma se ti arrivano così tanti È mancato poco Torniamo a casa Se ti arrivano in così tanti È difficoltosa la question Sì È cambiata l'ambientazione comunque Sì Poco fa era molto più luminosa Bella musichina però Sì Musiche semplici a sto gioco ma Molto ritmatico Io ho paura subito Che passano i mostri Speriamo che doc se ne stigli molto fermo È così doc Di sicuro guarda andando davanti lei Ma già qui la porta Ma No Ne è possibile No, ne è possibile se lei Può darsi che siccome noi abbiamo fatto tutto un tratto diverso Può darsi che in realtà ci sia un'altra porta Molto più veloce E' questa magari Che ne sappiamo se magari lui non ha una porta segreta in casa sua Eh no, infatti Ma invece non è cosa sua No Vai Oh Siamo già tornati Siamo già tornati Ma è Simus Sì È Simus No amori Bellini Io non ci sono ancora reso conto che veramente ce l'ha fatta Non ci sono ancora reso conto Quello è il nostro vecchio È il guardiano No, mi sembra che il guardiano non è Momo Non è Momo È il guardiano Bellini Reunion proprio Lui, vedi, è il guardiano Oh, mi fatti le puoi anche niente Sì Grazie Grazie di aver salvato Doc, piccola amica È fantastico sapere che Simus non è più solo Adesso sappiamo di poter rispondere alle attacche delle Zurk Momo ci sta aspettando nei pressi delle fogne Ok Ok Doc e Simu sembrano felici Penso che insieme abbiano fatto una gran cosa Abbiamo fatto Abbiamo fatto una gran cosa Questo qui può parlarci Sì No, può vedere che non anche gli umani le hanno migliorate tantissimo Ormai ci sono di po' la luce Voia Mi basta aggiungere un goccio d'acqua e guarda qua quanto crescono È davvero una chimica straordinaria Bellissimo Andiamo da... Però poi è una pianta è nata Eh sì Cioè è nata una pianta nel mondo delle fogne Diciamo Nel mondo di marcia Ma questa zona qui non c'era No Oh No Ma io non volevo andarci Morino Ma io volevo andare a dare gli spartiti Ma è... Ma è... Corri un po' E se no Morino Oh Lo fa da rita Oh Eccolo Ma Qui dove eravamo prima Dove c'era Doc Ma ci sta capendo nulla Forse no No non era quella no No Non è diversa No no Un'altra zona ancora questa Vediamo se c'è qualche ricordo Magari Ci fanno andare in qualche modo Però non posso andare in acqua Non può andarci Oh drifta E a che Eccoci Non riesco a crederci Hai trovato Doc Hai recuperato Oh Il deflux Con questo nelle nostre mani Possiamo metterci sulle tracce di Zabazar Andiamo Chi era Zabazar? Il suo amico che era Nell'oltre Nell'oltre Giusto Quindi ora è iniziato il percorso con Momo Sì Sì Tanta roba Andiamo a vedere ragazzi se riusciamo a trovare questo vecchio amico Le fogne Si ritorna da dove siamo usciti Da dove siamo Da dove siamo arrivati Anzi da dove siamo arrivati Ragazzi a me non manca molto comunque Questo posto mi dà i brividi Beh Tornatiato in faccia È sempre fatto così Davvero? Sì è sempre attaccato al cobalenoso Non c'è molto a caso Lui è sempre attaccato al cobalenoso Non c'è molto a caso Chissà dove ci sta portando Momo Che stiamo nelle fogne però Buona però 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 non ci sono voi Gli zurche No Hai parlato? Mi sono girato Pensavo di doversi qualcosa Ci mettiamo a sedere Mia così Va Bellini Bellini Oh no Non si vede C'è la luce Oh Qua mi fa domanda davanti da solo Secondo me Ora Allora vediamo un po' cosa ci dicevamo siamo arrivati qua vediamo un po' Oh ho smicolato Dovevo mi faria aprire questa cancella Che è la Dovresti tirare un'occhiata dall'altra parte E che là E che là Quindi immagino Che cavolo sono quei cosi lì Fanno abbastanza di prezzo Abbastanza Abbastanza Qui classico puzzle Immagino Ma è abbastanza easy Ok easy Volevo andare lì se poi non ci posso andare No Perché bisogna andare dall'altra parte Basta Volevo andare lì se poi si scende Easy Oddio Oh Sono vivi No guarda più ti avvicini Eh sì Più diventano rossi Non me lo immaginavo Non me lo immaginavo Ah Easy Ok Easy Quindi queste sono le uova Che però si possono Che si possono esplodere Esatto Mamma mia Che schifo Fa tutto un po' Pensavo con le zampotte Poverino Oh Lascia le zampotte anche Oh 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 Tu Che si dirà Non ci sa Ti guarda Non mi ero mai allontanato Così tanto dai passi fondi Non ti è accanto Non ho nemmeno paura Dai carino Momo Eeeh Gino e Beppe Pronti per una nuova avventura Ma è Peppe Ma è Peppe Peppe Gino e Peppe Certo Oh Shit Vediamo se arriva fino a qua Fino allassù No Vediamo un po' Poi comunque Che casino c'è qui Bella l'ambientazione Comunque Sì Non ci arriva Un po' distanti Vediamo Eh sapevo che tanto ci sarebbe andato Sì Ma è chiuso Ad aprire Video Gli esulti Intanto lì Che ci guardano Poi c'è lui Sa come aprirla E' una caronzolo Eh No la caronzolo non è lui Quell'altro Beh però Anche lui dicevo non è il primo No Si è rotto Strano No Ti è rimasto malissimo Momo Sì Bisogna fare Momo Tutto questo vecchio Però gli è rotto Penso che ci resti che aprile manualmente Sì ma io sono un gatto Ma infatti di che penserà lui penso Però naturalmente Mi devi dire Ha bisogno di una mano Allora Quindi lui è qua Io devo andare sicuramente dall'altra parte Qua lui ci proverà da solo Ma non ci riesce Quante forze Presto salta sotto la porta Sotto la porta Non reggerò a lungo Ah la boia Un'altra via No Quando trovai Zabasare Clementin Dillo allora che sono stato coraggioso No Così rischia di morire Eh si No No speriamo che Il nostro avuto Momo Speriamo che va tutto bene Che altro Speriamo Allora Oh Qua è chiuso Qua è piena Di qua non ci posso andare Di qua no Porca Guarda Qui è tutt'altra luce Cioè perlanto noi stiamo contro Oh shit Quanti ce n'è Eh Vedere se riesco Ok Non ci sono aperti Ok Mamma mia Lì di sicuro c'è qualcosa però Eh si Bisogna andarci Proviamo Guarda Guardi eh Ok Pelo Pelo Forse No cazzo Ne ho altre due Vabbè Sono due dai Ok Non c'è nulla Oh si Ah qua 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 No per forza Ti mettono Non posso correre qui Eh ma chissà se va avanti O se è un ricordo Un ricordo Un ricordo Ok 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 Sicuro vedi Era un ricordo Sicuro perché È tipo un easter egg Capito Sì Il sistema delle fogne Sì adesso ricordo L'acqua pulita Scherzeggiava La futura era rifinita Dalle enormi macchinari Che scavavano Nelle visce Della terra Ogni altra cosa Era razionata Per bastare Anche in tempi Di magra Lo scienziato Mi mostra i progetti Delle cisterne d'acqua Sono così grandi Da potremmo incapsulare Un inter edificio Boia Ok buono Però vedi Ti manca solamente Se quelli sono in capitoli Sì ci manca Nel primo ci mancano Nel secondo Anche nel primo capitolo Ci mancano No c'era il quadratino blu Sì Erano i primi Che avevi fatto da solo Sì Ah Eh ma non avevo ancora Il robottino Nel secondo Non avevi Però nel primo Non ce l'avei Nel primo Però se tanti ricordi Ce ne abbiamo mancati Spero se stiamo Andando in ordine Di ricordi Capito no? O mercoledì Eh Io direi Corri Tipo la laggata qua? Sì Direi corri e basta Ho capito O mercoledì O mercoledì Ho sbagliato Questa strada Eh Ok 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 La leva qui Non l'avevo vista Easy Porca minchera Non vorrei la scudetta No No Con un raggio d'azione Poi Sì Ok Però di là Chissà quante robe Abbiamo lasciato Eh Ci torniamo un attimino Proviamo Proviamoci Secondo me C'è altra roba Ci deve essere Per forza Che Troppi 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 Vedi Guarda No Fanno si può andare Tipo sì Ma No Allora forse Allora forse Abbiamo visto tutto Sì Era qui Era qui Era qui No ma Sì Ci sta Sì Sì Allora ci sta Vai Perfetto Andiamo Ci sta Andiamo Andiamo Dai Oh La sedia Non vogliamo sportire La sedia Che cosa Cavolo è Oh Madonna Eh Bisogna andarci Mi sa Ci si stoppa qua Va bene Io mi stopperei qua Va bene A questi occhi Perché ragazzi Sì Qua si prospetta Qualcosa di Succolento Ma lo stesso tempo Da cacasotto Per intenderci Quindi Lo farò Io lo farei tu Eh Toccherà a me Starà a te Toccherà a me Toccherà a me Vogliamo andare A intravedere cosa c'è No 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 È pieno di occhi È pieno di occhi Ci osservano I ragazzi Terminerei qui Sì Io terminerei qui Ragazzi Perché qua La questione si fa Molto interessante Molto interessante Perché ci sono degli occhi Cosa sono A questo punto Che cavolo sono gli Zurk Eh infatti Perché noi sappiamo Ovviamente che erano degli avanzi Della spazzatura E sono della spazzatura Eh sì Che sono Non sappiamo nient'altro Sapevamo che sono Dovrebbero essere Dei robot organici Però qui Sembra proprio Niente di robot Qui no esatto Quindi ragazzi Lo scopriamo Nella prossima episodio Sabato prossima Mi raccomando Sabato prossima Ragazzi Mettete like Iscrivetevi Supportate la serie Se vi è piaciuta Perché ragazzi Qui stiamo arrivando Veramente Veramente A fine Perché questa qui Penso che ragazzi Dopo questa Ci sarà Forse due o tre episodi E poi sarà finita Penso anch'io Non pensi ancora Troppo lungo Questo gioco E quindi ragazzi Magari già iniziate A consigliarmi Quale gioco portare Tanto lo porterò Sempre con l'AU Quindi consigliatevi Voi quale gameplay Volete che portiamo E noi Lo porteremo Lo porteremo Quindi Bella ragazza Bella ragazza E grazie ancora